Vin Diesel e Paul Walker, nel quarto capitolo della saga Fast and Furious. Letty è stato assassino. E ora che fai? Mi godo quello che succede dopo. Indovino che è giornato, Don! Fuga e velocità. Onore e amore. Letty lavorava per un certo braga e qualcosa si è inceppato. Andiamo, fammi fare il mio lavoro, Don! Azione benzina. Sei sicuro di volerlo fare? Auto, motori, grande spettacolo. Fast and Furious, solo parti originali. Martedì alle 21, sul 20.